Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono nocciole intere tostate, parmigiano grattugiato, panna da cucina, granella di nocciole, olio evo, sale, pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole, l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola e ripetere l'operazione frullando per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il parmigiano la panna la noce moscata, il sale e il pepe ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 7. trasferire in un barattolo di vetro. Pesto di nocciole si conserva in frigo per 5-7 giorni, ideale per condire la pasta o i crostini. grazie e alla prossima ricetta grazie e alla prossima ricetta